I precedenti che ho leo tutti buoni, sono imbattuto, questo lo voglio dire perché... Si contano sulle dita di una mano le volte che Palazzi ha dovuto sostituire Cosmi in panchina in 12-13 anni di rapporto lavorativo con il tecnico perugino che domani al Meazza assisterà alla partita dalla tribuna perché squalificato. La rifinitura dovrebbe aver sciolto quasi tutti i dubbi già pochissimi per via di squalifiche e infortuni. Al Meazza non ci saranno Tomovic del vecchio Di Michele squalificati e Quadrado infortunato. Sono assenze importanti ma sotto un certo punto di vista credo che possano essere anche un volano perché la squadra o i giocatori che entreranno in campo abbiano ancora più forza, abbiano ancora più entusiasmo perché magari vogliono dimostrare in uno stadio come San Siro di essere all'altezza di poter giocare. Chiaramente poi incide molto anche l'entusiasmo. Io credo che domani al di là della forza dell'avversario che incontreremo l'entusiasmo del Lecce sia al massimo. Noi sappiamo che è un impegno difficile però andiamo là convinti di fare una buona partita. Sicuramente. Poi è chiaro la forza del Milan la conosciamo tutti. Ma giusto per questo che sicuramente i ragazzi sono anche consapevoli di andare in un grande stadio e a fare una prestazione degna di nota. Io non credo che ci siano dubbi sull'entusiasmo e sulla voglia di far bene a San Siro del Lecce domani. Il Lecce dovrebbe schierarsi con Benassi in porta. Miglioni con carrozziere ed esposito in difesa. Oddo, Blasi, Giacomazzi, Bertolacci e Brivio a centrocampo. Bozinov e Muriel in attacco. Il Milan reduce dalla trasferta di Champions da Londra contro l'Arsenal. I rossoneri stavano per combinarla grossa rischiando l'eliminazione. Una sofferenza che Ibrahimovic ha mal sopportato sfogandosi dopo la partita con la stampa svedese e criticando Allegri. Io sinceramente non credo a tutte queste butade che ci sono tra allenatore e giocatore. Chiaro, parlare di Ibrahimovic in questo momento mi sembra una cosa abbastanza... Cioè, la potenza di questo calciatore, la forza, le abilità tecniche sono indiscutibili. Ma io credo che il Milan non sia solo dipendente da Ibrahimovic. Sia un complesso di squadra importante con dei valori di giocatori importanti. Però io credo che il Lecce può e deve andare a Milano a giocarsi la sua partita senza timori diverenziali. È una partita come le altre, è una partita che vale tre punti. Io non credo molto ai discorsi. Sì, ma tanto andiamo a Sanzira a giocare, quello che viene, viene. No, questo è un discorso sbagliato e non ce l'hanno neanche nella mentalità i ragazzi. Cioè, noi andiamo per cercare di fare il risultato e lo vogliamo fare. Poi dopo vedremo in campo. Le forze del Milan sono, è chiaro, stiamo ragionando di una squadra, è il club più titolato al mondo. Però noi non dobbiamo avere timori, rispetto sì, perché rispetto ci vuole per tutti. Però andiamo a giocarci. Poi le partite nascono in una maniera, non si sa come può andare a finire. Però siamo ottimisti. Il Milan dovrebbe scendere in campo con Abbiati in porta, Abate, Bonera, Tiago Silva e Lex Mesba in difesa. Nocerino, Fambomele, Montari a centrocampo. In attacco Emanuelson, dietro Ibrahimovic e Robinho. Arbitrerà la partita De Marco Di Cavari, fischio d'inizio alle 15.